Buongiorno, buona domenica a tutti voi, benvenuti a questa prima edizione di All News. Urne aperte oggi in 101 comuni italiani, di cui 14 capoluoghi per il secondo turno delle comunali del 2024 per eleggere il sindaco. Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 di oggi e dalle 7 fino alle 15 di domani, lunedì, e poi si procederà direttamente allo spoglio. Circa 64 mila sono gli elettori nelle Marche, oggi chiamati ad esprimere il loro voto in tre comuni che vanno al balottaggio. Osimo, Urbino e Recanati. Vediamo nelle grafiche preparate dalla regia, da Silvia Montesarchio, quali sono appunto i candidati. Partiamo da Osimo, per la coalizione di centro-sinistra abbiamo Michela Glorio, che al primo turno ha preso il 40,09% di preferenze, con 7.645 voti. Suo competitor per il centro-destra è Francesco Pirani, che ha preso il 34,90% di preferenze, con 6.499 voti. Andiamo avanti con Urbino, primo turno con Maurizio Gambini nel centro-destra, più due liste civiche, ha preso il 47,96% e 4.052 voti. Maurizio Gambini, che è il sindaco uscente, che si presenta per il terzo mandato. Per la coalizione di centro-sinistra abbiamo Federico Scaramucci, che anche lui di misura è arrivato al 44,73% di preferenze, con 3.779 voti. Ed infine andiamo a Recanati, dove per questo turno di ballottaggi competono Emanuele Pepa, per la coalizione di centro-destra. Al primo turno ha preso il 46,82%, con 5.363 voti. contrastato dal centro-sinistra, che propone Antonio Bravi, con una percentuale del 27,57% di preferenze al primo turno, dovute ai 3.158 voti che gli sono stati aggiudicati. Bene, oggi quindi seggi aperti dalle 7 di questa mattina, il tempo non è bellissimo, quindi c'è poca affluenza anche al mare o per fare scampagnate, cosa che farebbe presupporre una alta frequenza ai seggi. E invece guardiamo direttamente dal sito di Eligendo, che in realtà così non è, perché partiamo da Pesaro e Urbino, 20 sezioni su 20, il dato alle 12 rilevato, poi ce ne sarà un altro nel corso della giornata. Siamo come percentuali al 18,34% contro il 25,9% del primo turno, quindi una percentuale molto bassa e dove il tempo era decisamente migliore. Andiamo ad Osimo, 33 sezioni su 33, anche qui percentuali molto bassi, inferiori di parecchio al primo turno, vedete, 13,04% contro quasi il 20% di affluenza al primo turno, 19,90%. Scendiamo, andiamo, ultimo ma non ultimo, a Recanati, anche qui 19 sezioni segnalate su 19, e anche qui alle 12 abbiamo un'affluenza molto bassa di 12,82% contro il primo turno che si era fermato al 20,87%. Quindi, ecco, percentuali al momento basse, poi ci sarà un altro rilevamento intorno alle 23 di oggi che sarà il dato definitivo. Bene, cambiamo argomento, c'è anche cronaca, quest'oggi i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Fano dopo le ore 5.30 di oggi in frazione falcineto per l'incendio di un furgone telonato contenente materiale di falegnameria. Come vedete nelle immagini dei Vigili del Fuoco, sul posto la squadra di Fano e anche personale della centrale di Pesaro con l'autobotte che hanno domato le fiamme utilizzando la schiuma antincendio, evitando così la propagazione all'adiacente capannone industriale. Le truffe non si fermano neanche nel periodo estivo, anzi forse aumentano. Nella giornata di ieri i carabinieri della stazione di Monte Marciano, in collaborazione con i colleghi di Senigallia, sono intervenuti a seguito di una telefonata che segnalava un tentativo di truffa ai danni di un sessantenne del posto. I militari si sono regati dall'anziano, tranquillizzandolo e apprendendo che prima due giovani, entrambi di origini campane, dopo aver contattato telefonicamente la vintima fingendosi carabinieri e poi presentatisi lì nell'abitazione in abiti civili, hanno cercato di farsi consegnare una somma di denaro a titolo di risarcimento per un presunto incidente stradale nel quale era stata coinvolta la figlia, risicurando l'uomo però, tranquillizzando sullo stato di saluta della figlia e però sollecitandolo al pagamento e alla consegna della somma di denaro. Però la truffa non è andata a buon fine, l'anziano si è insospettito e quindi i due militari, quelli veri, che sono arrivati nella sua abitazione, sono riusciti a fermare i due uomini che nel frattempo si erano dileguati, subodorando che l'anziano non avesse mangiato la foglia e non stava aderendo alle loro richieste. Appunto sono stati rintracciati dai militari, raggiunti e accompagnati in caserma e denunciati alla procura di Ancona. Rimaniamo nel tema della politica però per una cosa che spesso sentiamo e che crea anche un po' di malumore e anche di indignazione alle volte, ovvero sia il cambio di casacca, di casacca politica. Ora però nelle Marche è più difficile fare questo salto perché c'è un'iniziativa regionale del Movimento 5 Stelle che pone un piccolo deterrente che però è di sostanza. Sentiamo. I cambi di casacca hanno sempre rappresentato un momento un po' spinoso della vita politica di una comunità o di anche alcuni esponenti politici. Avete pensato di metterci un'argine? Sì, assolutamente. Purtroppo anche in questa legislatura regionale ce ne sono stati diversi che hanno in un certo periodo anche bloccato il lavoro delle commissioni creando un impasse nel lavoro che serviva per tutti i marchigiani. Quindi dal punto di vista politico l'idea di intervenire per evitare questi passaggi da un gruppo a un altro, dall'opposizione alla maggioranza eccetera eccetera è stata condivisa. Quindi come Movimento 5 Stelle abbiamo ripreso una norma che è in vigore al Senato, l'abbiamo riprodotta in consiglio regionale e c'è stata appunto come dicevo una ampia condivisione sia in commissione, in prima commissione di cui sono vicepresidente appunto in quanto in quota 5 stelle e i colleghi mi hanno chiesto tutti di sottoscriverla. Ci sono stati due passaggi in aula perché essendo una modifica statutaria non basta un passaggio ma ce ne devono essere due e in tutti i due casi è passata l'unanimità. Quindi adesso la regione Marche, sono fiera di poter dire che su un'iniziativa del Movimento 5 Stelle con un'ampia condivisione, torno a ripeterlo, è la prima regione che si è normata in questo modo per cui chi fa parte dell'ufficio di presidenza o nelle commissioni ha avuto un ruolo in quanto esponente di un partito politico ed è vicepresidente o presidente, decade qualora decida di cambiare gruppo. Quindi non si incide sul vincolo di mandato che come sappiamo è impossibile farlo perché è incostituzionale, però abbiamo trovato una forma che è un deterrente e dovrebbe evitare questa spiacevole prassi che purtroppo abbiamo visto è comune nei consigli regionali ma anche in Parlamento. Tra l'altro questa cosa può rappresentare anche un unico, è un esempio che è riproponibile in altri contesti, in altre regioni, quindi questo può essere sicuramente un buon esempio. Sì, io sono molto felice del fatto che il Movimento 5 Stelle nazionale ha preso a cuore proprio questa proposta e lo sta riproponendo in tutti i consigli regionali in cui siamo presenti e quindi questa è una grossa soddisfazione. Ancora cronaca, incidente stradale questa mattina lungo il viale della Vittoria a Dancona, non distante non molto dal monumento Eco2 dove c'è stata una collisione come vedete nella foto tra una moto e una autovettura ad avere l'appeggio il conducente del mezzo a due ruote che è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette. Il codice rosso è dovuto però più alla dinamica che non ai traumi riportati dal Centauro, un uomo di circa 40 anni. Sul posto, oltre alla croce gialla di Ancona, è intervenuta anche l'automedica del 118 e la polizia municipale per il rilievi di legge. Se ne parla da un po' di tempo, sulle cronache rimbalzano anche sui siti e sui giornali, se ne sente parlare da un po', dopo gli Stati Uniti anche in Europa c'è un alert per quanto riguarda una possibile epidemia di influenza aviaria, quella che colpisce maggiormente il pollame e che potrebbe anche essere trasmessa all'uomo. Gli scienziati, gli esperti stanno monitorando il virus e le sue possibili mutazioni. Camilla Cataldo. Secondo gli esperti, una pandemia di influenza aviaria non sarebbe questione di se, ma di quando e la mortalità dell'infezione potrebbe arrivare al 50%, una catastrofe molto peggiore del Covid-19. Il direttore della clinica di malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, Andrea Giacometti, calma le acque e parla di rischio ancora basso. L'ultima aviaria che ha fatto tanta paura è la spagnola, ma parliamo di più di un secolo fa. Il rischio c'è, è ancora basso. Chi è che può contare l'aviaria oggi? Soltanto chi sta molto a contatto con il pollame in genere, quindi gli allevatori di polli, di galline. Negli ultimi anni abbiamo registrato più di 800 casi. La mortalità è stata su 50%, cioè 400 di questi sono morti. Ma si tratta di un virus che non è adattato all'uomo, impiega tanto e raramente contagia. Però chi viene contagiato è purtroppo predisposto a fare una forma molto grave. Se ci sarà il vero salto di specie, cioè se questo virus aviario si adatterà veramente all'uomo, la mortalità scenderà. Da alcuni anni il virus dell'aviaria sta ammietendo milioni di morti tra mammiferi, uccelli selvatici e domestici. Animali selvatici che vanno a mangiare le carcassi degli animali caduti possono raccontrare l'infezione. Però anche questo è un evento raro, riguarda solo quell'animale, può essere la volpe, un lupo, un cane che mangia quel volatile e non si trasmette all'uomo. Cioè oggi nessun lupo, nessuna volpe, nessun cane è trasmesso la gara all'uomo. È successo qualche raro caso con i bovini negli Stati Uniti. Infine, una nuova variante Covid sta contagiando gli Stati Uniti, diventando prevalente oltreoceano, la KP3. Negli Stati Uniti è arrivata negli ultimi giorni la KP3 che arriverà, sta arrivando anche in Europa e in Italia. Non è molto diversa dalla KP2 in realtà. Sono varianti diciamo molto diffusive che avranno bisogno probabilmente di un riarrangiamento del vaccino. Attualmente nel mio reparto abbiamo un solo paziente Covid ricoverato e va bene così. Ormai negli ultimi mesi abbiamo avuto da zero a un paziente Covid settimanalmente ricoverato, quindi una cosa per noi va benissimo mai a ricontinuarsi così. Bene, allora chiudiamo con un aspetto legato all'estate, all'alimentazione, a cosa mangiare, come non disidratarsi, insomma come alimentarsi correttamente seguendo i consigli di un esperto. Lo ha fatto Benedetto Marinangeli. Sentiamo. E' arrivata l'estate ed allora ecco i consigli della nutrizionista Anna Paola Scioletti per una corretta alimentazione nel periodo più caldo dell'anno. L'estate la cosa più importante è provvedere a una giusta idratazione. Sicuramente, ma a prescindere dall'età, che siano adulti, anziani o bambini, la cosa più importante è non dimenticarsi di bere. Spesso e volentieri mi si dice ma io non ho sete, bevo quando ne ho bisogno e cose del genere. Purtroppo l'acqua, dico sempre, può essere carente soprattutto quando uno non è portato a bere. In estate abbiamo l'aiuto di tutti quelli che sono i frutti e gli ortaggi estivi, che sono ricchissimi di acqua ma anche ricchissimi di sali minerali. Quindi sicuramente in una dieta estiva non devono mancare frutta e verdura soprattutto di stagione. I sali minerali che sono presenti in abbondanza in tutti questi prodotti che l'estate ci offre ci permettono di avere un potere rimineralizzante, perché con l'estate e ovviamente con il caldo arriva anche tutto quello che porta a un aumento della sudorazione e quindi una dispersione maggiore di quelli che sono i sali minerali. L'aiuto fornito dalla frutta di stagione e dalle verdure di stagione ci permette proprio di avere questo effetto rimineralizzante. Altro aspetto positivissimo è l'abbondanza di potassio fra i vari sali minerali, perché questo ci permette anche di contrastare quel senso di ritenzione idrica che con il caldo tende ad aumentare. Puntare molto anche sul pesce, evitare forse le carni rosse, preferendo quelle bianche? Questo sempre e comunque. Il pesce, soprattutto a chilometro zero, è un alimento eccezionale, perché è ricchissimo di omega 3, è ricchissimo di quel grasso che serve alle nostre strutture cellulari, che serve alla funzionalità a livello del nostro benessere cardiocircolatorio. Quindi il pesce come fattore proteico è eccezionale nelle diete estive. Le carni rosse possono essere più cariche di colesterolo animale e questo comporta sicuramente un aumento dell'appesantimento a livello cardiocircolatorio, quindi meglio evitarle sicuramente. Bene, siamo arrivati in fondo, però permettetevi prima di salutarvi, di ricordarvi che domani, come abbiamo fatto per il primo turno, seguiremo l'esito dei ballottaggi nelle tre città che abbiamo visto prima in apertura, ovvero sia Osimo, Urbino e Recanati, con collegamenti esterni durante tutto lo spoglio e poi in studio ci sarà Manoli Tascoco con ospiti che collegherà il tutto. Quindi domani a partire dalle ore 16, canale 13, TVRS per i ballottaggi nelle marche per le amministrative 2024. Bene, mi raccomando, seguiteci e adesso naturalmente dopo la sigla il meteo e quindi poi i saluti. Arrivederci alla prossima edizione. Asset, quando il cittadino è al centro. Previsioni per oggi. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste. Coperto con possibili deboli piogge. In montagna, nuvoloso con qualche schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste. Nuvoloso con qualche schiarita. In montagna, nubi sparse con locali piovaschi.